Dopo due mesi dalle dimissioni del sindaco di San Cataldo, Francesco Raimondi, si è insediato questa mattina a Palazzo delle Spighe il commissario straordinario nominato dalla regione siciliana. Si tratta del vice prefetto Licia Messina che dovrà occuparsi della gestione ordinaria dell'amministrazione sin alla prossima tornata elettorale prevista nella primavera del 2014, quando i sancataldesi saranno chiamati alle urne per eleggere il primo cittadino. Dopo una breve cerimonia di passaggio tra l'assessore anziano Giuseppe Anzalone che sinora ha svolto il ruolo di facente funzioni di sindaco e il commissario, la giunta è stata sciolta mentre il Consiglio Comunale rimarrà in carica sino al rinnovo dell'amministrazione. È un incarico importante del quale io sono onorata anche perché da quando lavoro alla prefettura di Caltanissetto ho sempre visto questo paese importante, grosso, quasi un fiore all'occhiello alla provincia, sempre ben organizzato un comune tra i più popolosi e la provincia. Avevo avuto rapporti in occasione di manifestazioni ufficiali oppure divertenze quando facevo il capo di gabinetto ma mai e poi mai avrei immaginato di venire qui a prestare la mia attività come commissario. È un impegno gravoso chiaramente ma va da subito precisato che io svolgerò, assumerò, assumo anzi da oggi, dobbiamo comunicarlo all'assessorato, le mansioni del sindaco e della giunta comunale mentre resta in carica l'altro organo elettivo che è il Consiglio Comunale. Il mio auspicio qual è? Io devo condurre l'ente alla prossima tornata come diceva che verosimilmente sarà a maggio comunque in un periodo compreso tra aprile e giugno e la mia deve essere una gestione ordinaria però come ho già anticipato al Vice Presidente del Consiglio Comunale che ho incontrato prima di voi mi auguro che questa sia una gestione ordinaria ed ordinata dell'ente. La presenza femminile umanizza la politica e quindi noi siamo convinti di questo fatto e le auguriamo che possa lavorare per questa città che tanto amiamo e tanto abbiamo lavorato in questi in questi 18 mesi anche in questi 66 giorni di amministrazione suppletiva e anche perché questa città merita le giuste attenzioni perché è una città che ha avuto da un punto di vista politico grandi tradizioni, uomini illuminati e quindi il nostro augurio per chiudere è che il nostro saluto anche non solo ai dipendenti, tutti i dipendenti comunali perché c'è una bella macchina amministrativa, ha bisogno solo appunto di essere guidata e sono sicuro che con la sua guida questi mesi saranno proficui e intensi.